da più di 30 anni noi di friskis abbiamo a cuore il benessere di cani e gatti anche quelli meno fortunati che attendono un'adozione da tre anni ci impegniamo a donare fino a un milione di pasti ai rifugi di empa anche quest'anno grazie a voi ce l'abbiamo fatta un milione di grazie da friskis grazie